Tre casi di vagliolo delle scimmie sono stati identificati e curati al San Gallicano di Roma. Nessuno di loro riferiva di viaggi all'estero recente. Ricoverati in isolamento, i pazienti in buone condizioni di salute sono monitorati dal personale dell'Istituto Dermatologico. Spiega DASCA News Aldo Morrone, direttore scientifico dell'IRCS San Gallicano. Si tratta di tre pazienti di 55, 52 e 42 anni. I primi due si erano positivi per HIV ed erano quindi in controllo da noi per terapia antiretrovirale. Il terzo era HIV negativo. I primi due si sono presentati per la presenza di manifestazioni in sede genitali. Anche il terzo paziente è stata fatta la diagnosi, confermata poi anche dai colleghi dello Spallanzani. Sono in buone condizioni di salute. Paradoxalmente il soggetto più giovane che quindi non aveva ricevuto la vaccinazione contro il vaiolo ha avuto manifestazioni un pochino più serie e un pochino più pesanti rispetto ai due pazienti che invece erano stati vaccinati contro il vaiolo. Quindi questa è una dimostrazione che le vaccinazioni hanno una funzione protettiva nei confronti della specie umana. Ad oggi sono stati riportati 7.892 casi confermati di vaiolo delle scimmie in 63 paesi mentre 26 paesi in Europa hanno segnalato 4.908 casi che rappresentano il 65% di tutti i casi segnalati nel mondo nel 2022 e sono più di 292 i casi identificati in Italia. Il vaiolo delle scimmie è una zonosi che si trasmette proprio attraverso i contatti diretti si può trasmettere attraverso le goccioline e droplet un po' come il Covid-19 ma soprattutto con i contatti ravvicinati e quindi in particolare attraverso la pelle attraverso le mucose e ultimamente soprattutto osserviamo casi attraverso rapporti intimi, rapporti sessuali. Il vaiolo delle scimmie, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sicuramente presenta una diffusione maggiore di quanto non rilevato perché molte persone che hanno queste manifestazioni cutanee o si autocurano con delle creme o comunque non vanno in centri specializzati per farsi diagnosticare la presenza di questa infezione. Quindi sarebbe opportuno che tutte le persone che hanno manifestazioni cutanee che a volte arrivano prima delle manifestazioni generali come astenia, cefalea, mal di testa, dolore della schiena e linfodenomegalia, cioè il riconfiamento di alcuni linfonodi, possono andare nei centri specializzati e porsi il sospetto di vaiolo delle scimmie. Con un banale test, un esame, possono avere la conferma o ovviamente la certezza di essere affetti da questa infezione o meno. Fondamentale dunque è rivolgersi allo specialista dermatologo che svolge un ruolo primario nell'identificazione della patologia virale. Quello che preoccupa le autorità sanitarie è il fatto che da circa due mesi il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo in tutti i continenti, anche in luoghi ritenuti finora non endemici. L'Istituto San Gallicano da molti anni è presente in Africa e in particolare abbiamo organizzato diverse missioni, la prossima sarà durante il mese di agosto, proprio per studiare da vicino la diffusione del vaiolo delle scimmie e insieme ai colleghi africani poterla contrastare e capire meglio questa malattia che è stata osservata per la prima volta proprio nella Repubblica Democratica del Congo all'inizio degli anni 70 che si è diffusa rapidamente in Africa e che adesso ha avuto questa caratteristica di diffondersi praticamente sull'intero pianeta. È importante studiare con loro per contrastare la nascita e la diffusione di tutte le malattie effettive di cui possiamo essere colpiti.